Previously on Lockdown Restare lucidi in un mondo così complicato vuol dire anche non potersi permettere di tralasciare nulla e di commettere errori poi ci sono gli imprevisti tutte quelle eccezioni che fanno parte del copione tutte quelle eventualità che non dipendono da noi ma che vanno comunque risolte proprio come in questo caso non è vero non è vero non è vero No, no, no. No, 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 no. Gloria, ci sei? Gloria, Gloria, sei in casa? Gloria, sei in casa. Oh, ma ho provato a richiamarla. Si, ho provato più volte, ma doveva sempre spesso. E quindi? Quindi ho deciso di venire e ho preso l'auto. E Bruno, stai qui? Non è il momento. Lo so che sei not 1969. Ma io non so che non si può uscire. Ma è fatto io, mando io, ci tengo. E devo stare per me a sarai no a caso? Ti richiamo. No! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.